È felice di presentarvi questa casa meravigliosa. Non perdete l'occasione! Questa bellissima casa potrebbe essere la vostra. Questa casa attraente offre un ampio soggiorno per distenderti e rilassarti. Stupenda cucina a vista, con spazio per muoversi. Stravaganti camere da letto, con stile e spazio, creando un ambiente contemporaneo. Il meglio della vita è dell'intrattenimento all'aperto. Un ottimo modo per finire la giornata. Prenotate oggi una visita!